quindi mi stai dando del clown non capisco perché mi sta dando del clown quella al di là del monitor bestiacce bentornati in questa nuova ed incredibile live spero mi si senta sma 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 prova prova 1 2 carichissimo umidissimo perché siamo in periodo estivo d'altronde cosa cazzo pensate cosa pensiate voi è il caldo è giunto non è vero ci sono 27 gradi oggi è stato si sta da dio si sta dopo la tempesta ragazzi c'è soltanto ecco da raccogliere i cocci ma almeno si fa il fresco e tra l'altro tranquilli perché a breve un'altra tempesta sta per arrivare allora attenzione intanto stasera facciamo un horror night nuova 776 o meglio suite 776 un gioco horror che ci ritrova nei panni di questo architetto ossessionato dal suo lavoro soprattutto a parte tetto del suo lavoro scusatemi che va a vedere questo questa sorta di casa questa suite 777 per scoprire che cazzo è successo all'interno della sua struttura di quello che lui ha creato non so per quale motivo un architetto debba diventare un detective ma a quanto pare va a vedere che piforo è successo all'interno di questa suite e scopriamo a parte il fatto che tutto un puttanaio sembra una sorta di viaggio onirico ma una donna al suo interno ha commesso qualcosa o vuole commetterci qualcosa a noi e noi ci commettiamo a lei incredibile ma vero d'altronde è un po una metafora di vita anzi poco metafora quasi quasi anche poco parafrasa perché quando mai avete allora adesso vi racconto questa storia ditemi se l'avete già sentita allora un uomo di bella presenza pelato con la barba all'interno di una casa con una donna che solitamente ha degli sbalzi d'umore e che vuole farci del male avete mai sentito una storia del genere chiedo sì è impossibile perché questa cosa non è mai successa assolutamente no questa non è una richiesta d'aiuto e nessuno mi sta maniacciando al di là della scrivania mi raccomando bestiacce dunque stasera possiamo finalmente goderci quella che è una live dedicata a diciamo il concetto maschio contro femmine in realtà mi sto inventando puttanate perché non è assolutamente così non è una storia horror narrativa molto inquietante dopo vi faccio vedere il trailer ma ci sono notizie ci sono buone nuove quindi c'è il tgd no ma soprattutto c'è un'altra buona nuova che io avevo ragione vi ricordate ieri quando tutti quanti mi avete dato contro per la questione alieni ebbene avevo ragione cosa dissi io ieri dissi ma non si sa mai che magari c'è stiamo tranquilli stiamo calmi perché magari il congresso appena iniziato magari potrebbe cicciare fuori qualcosa di rilevante ebbene ecco in realtà sei giorni fa è accaduto prima ancora del congresso indovinate un po hanno scoperto ok che a 51 anni luce quindi c'è ci metti un quarto d'ora ad arrivare circa 51 anni luce da qua vi è un pianeta e da questo pianeta è arrivata una una sorta di messaggio radio ok che pare pare essere pare provenire che cazzo ridete è vero andate a informarvi ma prima ma che cazzo io lo so che state ridendo non ci state credendo ma andate a informarvi pare provenire non si sa non dicono ma pare provenire da qualcosa di artificiale allora in realtà questi messaggi questi messaggi radio questi 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 diciamo queste onde radio le abbiamo captate più volte nel 2020 ce n'è stata una che veniva da Proxima Centauri pensate abbiamo mandato un messaggio nello spazio e questo ci è ritornato indietro pensavamo fosse un altro messaggio invece no era il nostro coglione ma infatti tipo l'eco in montagna chi c'è chi c'è chi c'è chi c'è chi c'è chi c'è capita capita il suono ha fatto tutto il giro dell'universo è tornato così funziona funziona così non lo so voi che siete scienziati sicuramente saprete meglio di me detto ciò detto fatto comunque questo non c'entra un cazzo hanno captato un messaggio da questa volta ci è arrivato questo messaggio radio a quanto pare potrebbe essere una sorta di tecnologia artificiale quantomeno a livello insomma amatoriale quelle quello delle radio ecco non abbiamo gli ufo con la disco dance e i razzi spaziali e che cazzo ne so non esatto non abbiamo quella roba lì che stanno spammando in chat adesso parliamo di di qualche tecnologia ancora abbastanza primitiva quindi potremmo essere noi quelli che vanno a colonizzare per una volta sarebbe anche interessante allora a voi va di sottomettere colonizzare un altro pianeta beh le iscrizioni sono aperte link in descrizione ragazzi per iscrivervi alla lista per essere i primi a colonizzare i primi a distruggere i primi ecco a razziare è un po quello che noi umani abbiamo imparato a fare e quindi insomma perché no ecco perché no esatto perché no vabbè vabbè come detto ciò ragazzi questa è e io faccio il coglione però è una notizia vera tutto questo per dire che ieri sera avevo ragione avevo ragione ma chiederemo poi un esperto non dico chi vedremo un po che cosa ci c'era fuori non dico dove e non dico come allora bestiacci attenzione prima vi saluto poi tg dino poi si inizia a giocare allora chi c'è il live stasera smeriglio donte garold il pingu poi mira poi amretta poi rose jo non ho ossigeno stasera yenknot alessia kikalleluja dolf mamingo minchia ma per my love becky streghe best dadahele bimu lori alexus betax ehi ma è quello lì chiamami cap ti rubo il naso no dai che già non c'è i capelli poi chi ha l'altro e poi come tiro su col naso è di un godurioso ragazzi azazel smox v incredibile wolf girl marco alexi cox alex alexi cox what bene va bene scelterne toast nikba kiri jules e ultimo ma non ultimo o ultima ma non ultima chi è chi c'è come che schifo dino ma dai che vi scaccolate scorreggiate sotto le lenzuole le annusate pure ma siamo tutti esseri umani ma smettetela di rompermi alessandro bravo bravo bestiaccia porterai mai isaac no bestiaccia bravo roto valhalla tutti quanti voi bentornati alla casa del signore ripeto non è la mia sono soltanto l'occupante però insomma eccoci qua faccio io le veci bentornati bentornati aspetta che mi sistemo allora le notizie di oggi sono un pochino abbastanza come dire come dire allora intanto abbiamo un trailer dell'incredibile tomb rider cinese voi direte che cazzo sì perché a quanto pare dalla cina arriva con furore questo incredibile gioco che va a riprendere e ricalcare quelle che sono le diciamo le dinamiche di un classico tomb rider l'avevamo già visto questo trailer se non erro ma guardiamolo di nuovo insieme prego regia eccoci qua guardate questi sono i kanji vedete potete capire vedete cosa c'è scritto qui tomb rider nel primo nel primo canji scritto tomb rider sono giapponese negli altri non so che ragazzi io non lo so non sono un esperto di minchiate attenzione ottimo possiamo capire il tocco asiatico quando la prima cosa che fa una donna è un gemito via silenzio ovviamente una donna ferita cosa può fare che succede attenzione graficamente 18 minuti ma siamo cretini ma figa ma i trailer o li fate di 30 secondi con la schermata del titolo 18 minuti ma la via di mezzo dio bono adesso vediamo vediamo un pochino ragazzi poi tagliamo corto graficamente non è male o no certo che ciccia se ti devi ricucir la ferita ma ci infili dentro il bisturi tutte le forbici è sbagliato qualcosa però vabbè non ha un dottorato probabilmente ha visto solo un tutorial su youtube a carino dobbiamo farlo noi ricorda molto heavy rain per certi aspetti la quantic dream con questi diciamo anche un po anche un po rambo e che c'è scritto scusami diratsky of king insinis non so che cosa ci sia scritto proseguiamo lei si riaffetta si ricuce la pancia però mangia la ragazza non so quale sia il tuo dramma però ecco ti prego mangia un po a mamma è che dici no è perfetta così di no beh oddio se starnutisco gli spezzo un femore però va bene dai però è brava con le armi sa sparare un play un po forse un po troppo macchiato un po troppo sporco questa visuale con incredibile è sempre più esagerata la cosa non ce la faccio ragazzi io perdonatemi tu puoi essere un mastro non lo so di qualsiasi non so che tipo di cintura nera tu abbia non so quale tipo di 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 arte del combattimento però se pesi 35 kg e blocchi un uomo di 90 kg in armatura armato in questo modo beh complimenti perché non sei un essere umano sei una divinità o una serpe in grado di arrotolarsi attorno un corpo constripterlo e ucciderlo soffocandolo brava brava pare che t'avanzo un proiettile fanno e buon uso vorrei impararlo il cinese non so se però il cinese semplificato o il cinese con difficoltà plus volevo fare il cinese hard mode mi piace di più e dammi qualcos'altro oltre che sparatore per 7 minuti 48 un po di gameplay figa porca puttana ma che gameplay di merda mi fai vedere e poi dopo c'è il caricamento voglio vedere un po di sezioni platform perché alla fine dovrebbe riprendere quello che tomb raider che succede boss fight il flauto attenzione è un nemico è fottuta cioè fai una choxle ma sto coso un po difficile cioè hai sparato a degli esseri umani così senza scrupoli e senza cuore poi vedi un titano di metallo davanti a te e non gli spari ma spara cazzo eh? ma come fa? guarda! non vedo l'ora di giocarlo ragazzi perché a me l'idea di schivare proiettili di queste dimensioni nel mentre che parlo una lingua insomma c'è nel senso capisci? cioè mi affascina molto ecco mi affascina molto francamente wow wow complimenti no ma io ho sbagliato vabbè non importa altra notizia attenzione altra notizia molto interessante ci siamo playstation 4 pro e slim probabilmente in arrivo stavolta utilizziamo grazie all'ausilio di every day e multiplayer prima era multiplayer adesso è multiplayer prima era every day scusatemi adesso è multiplayer vediamo un attimino che cosa ad offrirci questa bella giornata a quanto pare la pro slim e la playstation 5 slim e la playstation 5 pro sono in arrivo questa è una sorta di render che non fa neanche cacare devo essere sincero sembra un porta detersivi sembra una di quelle custodie per quegli spazzolini elettrici che ti vibrano in bocca però devo essere sincero che comunque ha un suo fascino considerando appunto che sta ancora vendendo talmente tanto nella sua versione standard che sembra un po' improbabile come c'è scritto qua non sto mica leggendo perché sto proprio improvvisando che sony abbia davvero intenzione di lasciare nuove versioni nelle console in prossimo futuro però ecco gli indizi portano a una possibile dato che si sa che sony lo fa a una possibile uscita almeno di un modello slim non un pro perché credo sia un po' difficile infilarci altra cosa là dentro e rimanere sotto i 500 euro di prezzo ma credo che una versione slim probabilmente l'avremo nel mentre sappiate che just eat aggiusta l'estate ecco questo è importante ragazzi questo è molto importante attenzione però poi invece dall'altra parte un modello sma si 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 dino mi saluti e come no e poi invece dall'altra parte abbiamo l'xbox che emula per sempre i banditi se sei un bandito se sei diciamo avvezzo alle rappresaglie nel far west ecco microsoft ti elimina completamente ti sospende anche l'account brutto bastardo e sembra che a quanto pare io non neanche lo sapevo l'xbox precedentemente avesse la possibilità di essere in modo legale di utilizzare come cazzo si chiama una sorta di retail di versione dell'xbox dove tu potevi giocare ai giochi agli emulatori di questi giochi io non lo sapevo neanche alcuni so che la diciamo definiamola in alcuni casi la retro compatibilità di xbox molte volte utilizza degli emulatori che appunto emulano un vecchio gioco play 360 o xbox one xbox proprio prima la prima non la one di adesso la prima vabbè ci siamo capiti e quindi non ne ho idea come cazzo funziona effettivamente però non sapevo ci fosse un fottuto emulatora all'interno della console a quanto pare c'è ora qualche hackers qualche crackers là fuori ce l'ha fatta a craccarlo e ovviamente l'xbox adesso gli girano i coglioni fa bene fa bene evitiamo la pirateria o si è tutti i pirati o non lo sia nessuno questa è la nostra idea attenzione però volete vedere la faccia di uno che guardate ha venduto più di 40 milioni di unità di playstation 5 se volete una cosa pagate si volete vedere la faccia di uno che ha venduto che ha venduto 40 milioni della propria console perché siamo arrivati a 40 milioni di playstation 5 vendute allora ragazzi è più o meno così guardate l'ho fatto uguale tra l'altro incredibile questa è una faccia spensierata di una persona che effettivamente c'è i soldi non è che c'è un cazzo da fare ora fate 500 euro slash dollari per 50 milioni no quanti milioni scusami 40 milioni perdonatemi scusate esatto sono un po' di soldi un po' di soldi non parliamo neanche dei giochi ognuno venduto a 90 euro che a loro volta vendono all'incirca decine di milioni perché ne so il prossimo spiderman venderà un 20 milioni 30 milioni di copie nel primo mese sicuro come loro ecco fate voi questo è il guadagno che smuove il mercato dei videogiochi io ho preso questa notizia del cazzo per farvi capire immaginatevi quanti cazzo di soldi smuovono i videogiochi non sottovalutiamo la nostra passione ragazzi il mondo dei videogiochi è uno dei media che smuove più soldi nel mercato ha superato il cinema ha superato che cazzo ne so il teatro le serie tv i bordelli è allucinante due miliardi avete fatto il calcolo non ci credo non ci credo non ci credo non è possibile smettetela per favore di raccontarmi i balle quindi insomma ragazzi non sottovalutiamo il potere intanto dei soldi ma anche dei videogiochi e dato che il videogioco ormai è a portata di tutti dal telefonino a che cazzo ne so il Tamagogi preso in stazione che ti porta alla nonna pensando che sia una delle nuove esclusive della Nintendo e so che ti piace nei videogiochi tieni a nonna e ti dà quella cosa lì che fa però ovviamente insomma sono passati un po' di anni ma quella per lei d'altronde è tecnologia e insomma cioè rendetevi conto rendetevi conto i pesci di terra sono spariti ragazzi sono estinti definitivamente eh mi dispiace li abbiamo li abbiamo sterminati e purtroppo l'uomo ha fatto passi da giganti ragazzi adesso noi riusciamo troviamo nuove specie e le estinguiamo prima ancora che queste possano ecco fiorire cominciamo? no assolutamente no sto già facendo partire il gioco fondiamo un'azienda di videogiochi? perché? tu sai fare videogiochi? scrivimi contattami in privato per favore io sono sempre disponibile buonasera bentornati non ho avuto una playstation non ho mai avuto una playstation coop tv aspetta perché a breve ve la regaliamo dai ho deciso basta questa cosa mi ha ferito allora modalità di gioco 37840 no ma facciamo facciamo in 2k va facciamo la risoluzione high display 1 window no play hai fatto con unity che schifo no c'è andrea aspetta ecco qua via vediamo se parte questo gioco ragazzi si chiama suite 776 la cazzo devo fare vedere il gameplay il trailer vabbè dai su giochiamo e basta sti cazzi partiamo così minchia l'audio è già altissimo come premi 1 per giocare e premi 9 per quittare e quali cazzo per andare avanti cosa devo premere f3 ma che tasti sono minchia caratteristico suono ecco cominciamo bene cominciamo benissimo loading warning please keep it minded suite 776 containing flashing light quindi attenzione se siete fotosensibili lanciatevi fuori dalla finestra almeno non morite di come si chiama di epilessia ma morite per l'impatto ma non importa suite 776 is also heavily non l'abbiamo visto suite 776 does not contain save game functionality e vaffanculo is to be complete in a single sitting ah ok 50 minuti si dovrebbe completare il gioco in 50 minuti ora noi ovviamente quanto ci metteremo ovviamente 4 live this is a scary one very scary ok si possiamo andare avanti possiamo procedere per favore dai mi stai aipando tantissimo poi se il gioco è una merda è colpa tua mercy was found in her home dead she ain't herself mercy è stata trovata nella sua casa morta e si è impiccata questo è un programma per tutti per tutte le famiglie she left her only la sua famiglia da sola her 7 years old son ah aveva un figlio di 7 anni ha lasciato un figlio di 7 anni questa mercy proprio ha avuto no mercy questa mercy mercy was a famous architect ah era lei la famosa architetta a very well known architect molto conosciuta tra l'altro fortunatamente è diventata non ho letto in this my intention to prove that that you photograph mercy in motion ah il nostro il nostro compito è andare nella nella stanza 776 e fotografarla che si muove che fa quel cazzo che deve fare forse perché è uno spirito in questo momento and that is left to do is ring her bell that's all it takes just ring her ring the bell dobbiamo suonare il campanello e suoniamo il campanello usiamo il postino che bussa sempre due volte e entra da dietro lo scopriremo presto pulizia dell'immagine celsa siamo a 706 fps non sto scherzando ecco magari però se information to continue press hold 9 to quit no vorrei se è possibile selezionare ma ma porca puttana ma il menu oh mamma mia il t ring 774 773 ma minchia dov'è la 776 stanislao turkovski bene quando ci sono questi nomi dietro un progetto ragazzi sappiamo ovviamente che può essere soltanto una cosa positiva 776 la porta è aperta servizio in camera caro vabbè non c'è neanche lo zerbino vabbè mi struscio qui via permesso ma come cazzo è possibile come funziona cos'è a chiocciola sto appartamento sera col tasto q e il tasto e non abbiamo non possiamo sporgersi allora attenzione e riprende il concetto di pt reddit online i survived suite 776 it is real it's all appared real but they couldn't that would be possible i was the only looking toward the windows display the first floor the mobile six star suite to the floor the suite appears larger with impossible la stanza 776 appare più grande con proporzioni impossibili effettivamente già adesso non ha senso there was even a upper and lower level ah c'è addirittura un livello superiore e più in basso insomma sotterraneo che cazzo che è un semi interrato di questa casa però non dovrebbe dato che siamo in un hotel vabbè bom gamer xx parca puttana che sbocco molla giù come cazzo faccio a mollare lascia lascia ok ho lasciato 10 è chiuso il cassetto look is weak and simple e allora dagli un calcio e aprilo fai come fonzi ah c'è un piano di sopra davvero la porta è chiusa figa ci ho sbattuto il membro ho bussato la porta non posso abbassare c'è un tasto per abbassarmi qe shift tab un cazzo come faccio a prendere quella roba lì c marra spaziatrice si ma smordesvioski hai creato un gioco bellissimo per carità ma cazzo dimmi i tasti di obono perché non sono i soliti non sono i canonici che cavolo c'è là fuori buonasera la porta è chiusa madonna permesso ok qui è comodo per sedersi all'angolo stare in punizione ah questa qua è la famosa campanella e te pareva e dovrei suonare la campanella per risvegliare lei bell has been wrong e ma la porta è chiusa non posso suonarla di nuovo peccato volevo molestare il fantasma si ma il 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 tearing è allucinante ragazzi posso fare qualcosa per sta cosa cioè è fastidiosissimo voi non avete idea sto vedendo tutto quanto a cubetti io ma anche voi ragazzi eh si anche voi un po' madonna che merda la porta è chiusa che c'entra il gabbiano ma non era lì ah ci sono due soppalchi beh wow beh wow la porta è chiusa di nuovo e che cazzo devo fare scusami e non posso fare un gatto e quindi torniamo indietro vediamo un po' un pochino si vede si nota eh lo so ragazzuori vediamo un attimo se posso fare qualcosa su informazioni non mi dice ah night vision con il click destro sinistro click destro fare una foto inventario con i e typical interaction e whilst per muoversi quindi abbiamo abbiamo la visione notturna con il tasto destro che non lo fa perfetto buono iniziamo benissimo benissimo che succede che è sto suono stiamo per avere forse un probabile jumpscare no è dietro di me l'ho fregata ho potuto utilizzare l'ascensore grazie all'ausilio della mia coda perché non so come ho schiacciato il tasto dietro di me e quindi si rivelarà una mezza stronzata sto gioco non credo perché hanno detto che è molto inquietante chi lo sa sveva grazie mille bestiaccia l'autopalhalla ah cazzo mi sono dimenticato di dirvi una cosa lo scopriremo dopo lo scopriremo dopo guarda in alto no no tranquillo something is best to leave myths behind treat them as true eh no no letto vabbè lasciamo le leggende alle spalle ecco no matter how badly I want to accept that I can't I just have so many questions vaffanculo there is a way to save my motor I know there is but what can could it be ma perché dobbiamo essere la nostra madre che cazzo c'entra con con questa qua there's be a pattern for sort quindi stiamo cercando di salvare la nostra madre e quindi indaghiamo sul fantasma di lei ma questa merci è nostra madre questa merci è francese merci merci non lo sapremo mai ma è il figlio da grande ma sarà il figlio da piccolo fin ma scusami ma come è possibile finale sbloccato 2 di 3 6,1 minuto 0 foto di merci prese 0 gold bars collected 0 fotografie collected 1 easter egg found ci abbiamo già finito il gioco? vuoi dire che sono sono uno speedrunner? ma è incredibile finalmente sono riuscito a a a fare ad arrivare a uno dei miei obiettivi di vita sono uno speedrunner ragazzi ora mi manca la nazionalità coreana che sto richiedendo tra l'altro non so se lo sapete e sono completo sono un vero videogiocatore posso concorrenziare thank you for playing no ma thank you thank you special thank you to to me thank you to much thank you to you ma smordesvioski che cazzo ci aveva in mente ci sono voluti cinque anni a crearlo no in realtà ci sono voluti se non sbaglio c'è scritto c'è voluta tipo una notte per fare questo gioco beh ma adesso sappiamo il perché cosa è successo mi sono perso il finale cazzo cazzo hai avuto ben sei minuti per guardarti il gioco vabbè capita dai te lo riassumo io siamo entrati in una stanza abbiamo letto un foglio e siamo tornati indietro ma sembra non essere finita qua vediamo perché adesso sarà cambiato qualcosa dai vediamo un po' il creatore si chiama Briochki no smordesvioski please keep in mind that it contains flashing lights si ma ogni volta mi devi fare questa cacata dai super ora adesso bene tutto però non è che è un esperimento magari lo è della nasa per carità dai 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 do not contain savage game functionality single sitting single player bisogna 50 minuti per completarlo ma io l'ho completato in sei non vorrei inventarmi insomma ora si prova a battere il record di sei minuti certo adesso esco dall'ascensore e ritorno e schiaccio vediamo se ce la facciamo ma porca troia mi devi far rileggere tutta sta boiata ma se siano seri dai non posso neanche saltarla sta stronzata che due coglioni la luce il pc è caduto tutto fermi che è successo che cazzo è successo non ho fatto cadere niente non è caduto il tè chi l'ha fatto cadere ma la sta bene il cane dai sempre a baciarlo mi scusa è buona per baciarla era a sette metri dalla luce sta lì ma tutto bene non è successo un cazzo ma che si è spaventata quella lì c'ha gli occhi del timore perché sa che ha fatto qualcosa grazie grazie mille mi vedete mi vedete bom dai voglio un lavoro pulito microfono un po' basso aspetta che lo alzo un po' oh così in bocca dino non seguire la luce ma è lei che ha seguito me figa anche l'ascensore lenta ragazzi sto già scelerando porca puttana dovevamo scendere tra due giochi ho scelto questo è ovvio c'è permesso secondo me è un bel gioco non posso neanche correre sì niente russo deve open by smart death viosky queste porte non si possono aprire ho la pelata lucida sì perché sto sudando e ho pianto prima circa mezz'ora me l'ho sdraiato quindi a testa in giù perciò le lacrime sono scese sopra poi vi spiego perché ed ecchice di nuovo qua merci è lì con te grazie cazzo mi hai fatto venire un po' d'ansia allora there are over six other suite on this floor yet suite 6066 appears larger with impossible proportion this was even a upper and lower level of the suite it made absolutely no sense whatsoever and how did I get out beh se sei uscito come sono uscito io hai fatto retromarcia sei uscito dalla porta ti sei salvato però sono soltanto l'unico non ho indizi I came to suite 6066 with intention of recording my journey I set up cameras but all the footage was lost bene quindi tutti tutti i footage sono persi qui è chiuso il guardaroba qui non riesco a prendere le cose che ci sono sotto perché non mi fa non mi fa abbassare scusatemi adesso mi incazzo ti amo ti amo accendere l'inventario foto ragazzi io non so quale sia il tasto per abbassarmi o c'è un problema nel gioco è strabagata sta merda non mi sto abbassando come le faccio le foto se non ho una macchina fotografica così faccio il gesto il suono non c'è niente ragazzi non c'è niente andiamo a suonare la campanella e rifacciamo tutto da capo però è misterioso eh ehi chi c'è qua allora vediamo un attimino magari adesso posso posso muovermi posso abbassarmi no se qualcosa fa capolino e mi saluta giuro che ecco urlo ah bello sto quadro Bologna Firtufatum porca puttana che sbocco ecco vedi Firtufatum ragazzi ha stufatum francamente c'è un cane è tutto bloccato ma io dovrei teoricamente prendere gli oggetti che ci sono qua ma non posso abbassarmi perché c'è c'è palesemente lì una tazzina del caffè è un obiettivo di una telecamera di una macchina fotografica ma non posso prenderle non posso abbassarmi non so che cazzo devo fare vediamo le altre porte non si apre non si apre ma dio santo tasto destro del mouse ma l'ho premuto il tasto destro del mouse non va dopo si riprovo scusasse c'è nessuno in casa ho un difetto alla colonna vertebrale se qualcuno mi può leggermente piegare verso il mio obiettivo a secondare ecco l'attimo che cazzo c'è là fuori ma guarda cosa sto guardando allora effettivamente il gioco è costato 3 euro e 50 però però ora mi ingrifo non posso fare niente è tutta una bugia del cazzo forse devo provare a suonare la campanella di nuovo cioè bastava aspettare ma io non ho pazienza dovete dirmelo guarda che basta che aspetti non c'era musica inquietante no quindi vuol dire quando ci prendiamo un jumpscare ragazzi ce lo prendiamo per bene madonna merci merci eh c'era un rumore c'era un rumore bianco di sfondo che adesso non si sente più merci vive la france la baguette merci non c'è la signorina non c'è ok no pare non si è cambiato niente quindi stiamo per avere un jumpscare credete no merci angolo dell'invincibilità fottuta qui non può farmi nulla che sta succedendo sento qualcosa camminare bene ci siamo calmi eh non iniziate anche voi per favore eh un po' di concentrazione focalizziamoci godiamoci il momento grazie mille jam signorina signorina ok vediamo se le porte si aprono no minchia fuori comunque c'è bel tempo eh cioè non esiste più lo spazio non ci sono più confini porta è chiusa arca puttana chi è? sì? arrivo arriva eccomi eccomi buono piano non troppo veloce piano la porta è chiusa suona a girti ok 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 fotti il gioco fotti il gioco vai così scattante ok calmi 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 è soltanto attenzione 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 sono tranquillo c'è stato uno sbalzo elettrico una leggera va tutto bene sta ridendo ti faccio passare io la voglia eh merci ok adesso si apre questo puff ed escono dei serpenti e sonagli di carta sorpresa buon compleanno a nono di 70 che inizia a star male una scena che ho già vissuto merci la porta it's locked ho letto la porta è un dottore merci sapete perché sto ridendo eh perché io non ce la faccio più ragazzi sto iniziando a sviluppare quella che è la risata isterica per colpa vostra che mi fate giocare a sti cazzo io non sto leggendo cosa c'è scritto non me ne fotte un cazzo della storia a questo punto suite 776 l'inizio sì sì questo è il classico suono che si sente quando ti metti il microfono in bocca non ci resta che ridere beh direi di sì allora quindi qualcuno ci ha tramortito con un lampadario caratteristico potevano farlo con qualsiasi mezzo del cloroformio per dire un fazzolettino no sì qui si fa si fa si fanno le cose per bene lampadario direttamente in faccia arca miseria no no press e on the left click for night vision ah beh cazzo cambia completamente tasto destro per fare le fotografie iper l'inventario the first page on my notebook is missing something actually tore it out qualcosa ha strappato la prima pagina del nostro diario o del nostro giornale in inglese journal I walk in the suite 776 or so I think I did I feel as though I have been fully locked in ci hanno chiuso dentro perfetto I actually feel like an illusion like it's not real ah non è vero e allora non avrò paura non so se abbia senso non so se abbia senso ottenere la visuale la visuale come si chiama la cosa notturna accesa perché vediamo là in alto che c'è un caricabatteria erca puttana vacca bastarda deve essere il gatto al piano di sopra o un tuono non lo so qui è ancora chiuso qui è bloccato il cane lo fotografiamo non si sa mai easter egg ragazzi ne abbiamo trovato uno easter egg traduco per chi non lo sapesse vuol dire uovo isterico ma c'è un amo da pesca appeso al c'è un amo da pesca appeso qua come faccio a prenderlo forse posso spostare la sedia no che cazzo c'è qualcosa lì devo andare al piano di sopra piano eh piano eh piano non va bene piano eh perché troppo buio una chiave oddio the first page ma vaffanculo chi se ne frega no key with an inscription office ok abbiamo la chiave dell'ufficio e non è questo ottimo figurati guarda per terra guarda per terra per l'amor del cielo guarda per per che spavento era l'ombra era l'ombra della bajur tranquilli 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 perché questi c'hanno le lanterne a muro non lo so però non importa ok l'utilizzo della della luce ultra uv la luce la visuale notturna come potete vedere se io clicco va in percentuale a diminuire poi però si autoricarica grazie alla tecnologia di Elon Musk e di Tony Stark fusi insieme devo salire al piano di sopra ma non so come io qua non entro ok architect of the year dove c'è scritto ah qua questo è il primo architetto dell'anno che sembra un metodo di 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 tortura medievale uno strumento di tortura medievale puoi chiudermi sta cazzo di porta scusami no che spavento chiudi la porta ring the bell again no no non c'è bisogno ho fatto una fotografia è servito? ma io il cazzo adesso allora la scatola rossa è chiusa non possiamo aprirla qui non possiamo interagire c'è scritto qualcosa qui andiamo un po' email result pirated copy mercy does not appear to be in the proper state of mind quindi era pazza several tastes were conducted testing and reaction to stressful environment condition reaction mercy display include twitching mumbling redness excessive laughter allora a quanto pare questa qui non stava bene col cervello le sue condizioni per capire questo è che andava su twitch faceva le live infatti è scritto twitching mumbling che quindi insomma borbottava qualcosa nel mentre che era lei probabilmente faceva smr redness quindi si conciava i capelli di rosso perché è una di quelle streamer e poi risate eccessive risate eccessive perché forse insomma in sostanza mercy decide the end of the session early unfortunately vabbè quindi ha chiuso la sessione prima ma l'ufficio del che? ma questo è l'ufficio dello psichiatra ma dentro casa? devo controllare bene ogni stanza di casa mia non vorrei che in una di queste porte ci sia uno psichiatra e beh io non salgo no ok la porta è chiusa ma nulla ci sta facendo del male no ok calmi va tutto bene devo suonare la campanella di nuovo? mannaggia il cazzo mio ma perché 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 non potevo giocare all'altro giochino bello tranquillo guarda per terra guarda per terra va che bel parquet va che bel parquet bellissimo parquet adesso mi sento dire merci mi 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 veramente mi impenno per una quinta volta ma io non sono andato per quattro volte boni boni la porta è chiusa chi c'è? ci sta invitando ad entrare non vedo non vedo calo di pressione fermi vedo puntini neri sto riprendendo la sensibilità le dita ci siamo via il mio cuore ce la può fare ring 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 ringa tu che cazzo vuoi ma ringa un cazzo ma fammi entrare bisogna prendere le situazioni bisogna prendere di polso notare che tra l'altro c'è il simbolino al centro del 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 io voglio arrivare a quell'amo lì per cavarmi di occhi in sostanza e che cazzo mi hai detto di suonare la campanella l'ho fatto è tutto sbagliato sono le nove wow posso salire appena di sopra adesso no mi sa che serve un'altra chiave oddio buono ok andiamo a suonare ancora che cazzo vi devo dire ragazzi dice che ho fatto due foto dice che ho fatto due foto sono riuscito a fotografarla come faccio a vedere le foto aspetta information unless stated otherwise the chess inventory e left click right take e no non me le fa vedere cazzo scusatemi madonna madonna figa ma io lo so che è una certa suoniamo la campanella e la porta dietro è aperta e lei è lì 6 caratteristico numero Udemongi la porta è chiusa ma hai detto di suonare lei eh che cazzo è ogni volta quell'ombra di merda che ansia la porta è chiusa ok davanti all'ufficio c'è un mobiletto sotto il mobiletto c'è una chiave è dietro di me non mi giro non mi giro non me ne frego un cazzo davanti all'ufficio c'è un mobiletto sotto il mobiletto c'è una chiave davanti all'ufficio c'è un mobiletto sotto il mobiletto c'è una chiave sono nell'ufficio non vedo alcun mobiletto sotto il mobiletto non vedo alcuna chiave Qua? Ma non posso abbassarmi Spoiler volante? Sì, sì, no, ma non c'è problema, ragazzi, tanto è inutile Perché, voglio dire, guardate Guardate la situazione Vabbè, entriamo nella stanza del demonio 1, 2, 3, ready for creep me? Vuoi che ti faccia una crap? Bene, serve un codice Che noi non abbiamo Minchia, pensavo di avercela dietro Con calma, eh Interview Interview response 1 Interview response You mentioned that Mercy had a bell on her desk of the office Would you mind repeating what told you my priority to the interview? Coworker, well Every time she would read something online about herself Or her work that she didn't agree with She would ring the bell Ah, quindi ogni volta che lei leggeva qualcosa online su se stessa Sul suo lavoro con la quale non concordava Suonava la campanella E la suonava costantemente Tipo un bonobo affetto da qualche malattia Da qualche spettro di autismo Especially after she finished the construction of her new home A dopo che ha costruito la sua casa Continuava Plim, 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 plim Ma è Tio Salamanca Quello lì di Breaking Bad Hector Her masterpiece is called Era una persona incazzata Vero? Perché suonava il campanello? Vabbè C'è una fotografia Cos'è? A fragment of mercy found memory E fammela leggere Fammela vedere Che succede di grazia? Porca puttana Mi sono incastrato nella mobilia Qui è chiuso E qui abbiamo Un diapason Vi ammazzo Ovviamente Twitch si intende In termini ludici ovviamente It's locked but there is a force Keeping it shut Ah c'è qualcosa che sta tenendo la porta chiusa Me ne vado Me ne vado Non busso più Non mi giro Che cazzo Cosa ho trovato? Una forcella A hairpin May be able to use this for something Perhaps a lock Ah Può servire per aprire Qualcosa Allora attenzione Perché lei è a sinistra Io lo so Via Palesemente vinto Il controllo della situazione Oh Calmi Cos'è sta luce? Aspetta Cos'è che c'è scritto? With three insert above Ah devo inserire tre cose qua sopra Ah Tre lingotti Di platino Oro E E adamantio Questo si spiega Allora la forcella Forse possiamo usarla Per aprire la porta del piano di sopra Che dite? Non ne ho idea Il primo armadietto Il mobiletto all'inizio Ah già giusto Bravi bravi Boni eh Che idea del cazzo Venire di qua Cacciavite Cacciavite per Dead ring it again Remino Eh Remind me Suonalo ancora Mi ricorderai i fallimi I miei fallimenti Siamo scemi? Meno male che è l'architetto Dell'anno Allora abbiamo un cacciavite Col cacciavite Che ci faccio? Porca di quella miseria Ho notato che tutte le cose Con le quali non puoi interagire Emanono una luce blu Ho sbaglio Ehm Sì l'avevo notato anch'io Francamente Però sì Quindi se è una roba è blu I will grab your From behind Ti prenderò da dietro? Ring? Ah ring un cazzo Ring a tu A sto punto Scusami Dead Orca puttana Che ansia a girarmi ragazzi Voi non avete idea Ok? Allora andiamo a suonare ragazzi Andiamo a suonare Sarà la mia ultima suonata Ma la migliore della mia vita Io guardo giù Non me ne frega un cazzo Ringa tu va Ricarichiamo la visione notturna Ok Per favore basta eh Con calma eh Sta per succedere Stiamo per avere un jumpscare Io non avevo provo Un manichino Come upstairs Oh Vieni sulle scale Così mi chiede la nostra Merci Ringrazia tra l'altro Sta ridendo L'ho fotografata Orca puttana Vacca bastarda Ok Va tutto bene Va tutto bene No 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 Ok 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 Con una non poca dose di coraggio che solo un uomo della mia levatura ha nel suo bagaglio emotivo culturale, di vita in generale esperienziale eccoci qua è un messaggio criptato per lei ottimo Dino manca un coltello ancora, però ragazzi allora, adesso io capisco il tuo difficilissimo lavoro Andrea, da moderatore ma se anche tu inizi a scrivere le minchiate e meme del canale io non capisco più un cazzo perché io leggo i tuoi messaggi fondamentalmente cioè, capisci Andrea cioè, mi è difficile che cacchio ti ridi però perché ogni volta che scrivi è per fare il verso a qualcuno abbiamo capito che sei un po' incazzato però basta, cioè, figa che è ste zanzare di merda perché poi mi incazzo anch'io su, su che ci abbiamo? 11 anni? che ci faccio con un cazzo di cacciavite all'interno di una suite 776 in Francia della signorina Merci devo suonare qualcosa? mi dice incontriamoci al piano di sopra e come c'è ah, mi ha aperto la porta bene non guardo guardo ho guardato non guardo sto guardando non guardo non mi giro ah, ha aperto il piano di sopra gentilissima salgo, eh sto salendo allora, signorina sto salendo bello qui molto bello qui due note enter non entro non entro tranquilla cazzi tuoi tranquillissima va bene così abbiamo un'altra fotografia andiamo a vedere qual è non sapremo mai ok ok porta sbarrata credo che qua ci sia effettivamente l'ufficio il famoso ufficio che cazzo di quadri ah ok va bene va tutto bene va tutto bene si si va tutto bene le docce marmore cover with screwdriver facciamo saltare sopra la copertura della doccia con il cassavite e scopriamo there is something in the drain I need to try to find a way to reach it abbiamo la forcella qua saranno i capelli di lei che cazzo vuoi che sia scusami per un attimo me la sono immaginata raggomitolata sul tetto a fissarmi che cazzo di merda c'è con tutto rispetto eh merci design for a decade beh design for a decade a drilling hook I might find the useful but how will reach it it's too far to hang with a allora è molto lontano il il uncino ma dobbiamo trovare un modo per raggiungerlo ma non sappiamo come fare allungare il braccio a quanto pare non basta Dio sono leggermente agitato possiamo smetterla con questi suoni sparati nei timpani 4158 combinazione che serve per il frigorifero ma è horror il nano supremo guarda con tutto l'affetto del mondo vai un po' a cagare eh dove cazzo pick up a ladder ho pick upato la ladder 4158 ricordatevelo voi no 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 ma scendo da qui aiuto 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 ok dove sto andando ritorniamo in cucina ah ok ok 411 badonna ok 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 Calmi. Abbiamo... una cesoia. Abbiamo una cesoia. Allora, abbiamo anche le scale in questo preciso istante. Io non mi ricordo che sto facendo! Perché? No, no, no. Perché l'ho fatto? Mi sono autospaventato. Basta, eh? Abbiamo le cesoie. Abbiamo una scala. La scala ci serviva per... le chiavi. Posso... posso metterla qui la scala, no? Ah, no, no. Ah, putta letter. Ho puttato la letter, ok? E ho preso il nostro gancio. E mo? L'uncino. Con l'uncino che cazzo ci faccio? Possiamo andare a prendere... Ah, quello che c'è probabilmente nel drenaggio della doccia, giusto, giusto. Up close she looks torn. Unaware of her surrounding. Is she fully conscious? Ah, perché l'abbiamo vista, ecco perché ha scritto sta minchiata. I've always read tales when I was younger on demoniac possession. Certo, ho sempre letto storie sul possesso demoniaco, ecco. E ho sempre pensato di possedere il demonio. Are you aware of everything, even as your own blood beings bluding your eyes? E mi sembra un po' esagerato. Your muscles could move a muscle, but he could. Vabbè, insomma, in sostanza questa sensazione del sangue che ribolle i tuoi occhi, non riesci a muovere un muscolo, ma lo muovi. Come? Non posso più passare, immagino. Mi sta impedendo palesemente di andare al piano di sopra, comunque, eh. È lei che sposta i manichini? Ho il pieno controllo, io sono il controllo. Ora avrò il jumpscare a destra o a sinistra. Ho vinto. Ho vinto. I have a hook, but I need a string or something to attach. Mi pigli per il culo, scusami? Cioè, hai staccato dal tetto, legato a un filo, un cazzo di uncino. Hai preso l'uncino, o meglio, l'amo da pesca, e adesso mi dici che ti serve un filo da attaccare all'uncino? Non potevi usare lo stesso con la quale era attaccato su? Minchia, io sti sviluppatori, veramente, quando fanno sti boiate, ma di sceneggiatura spicciola, stupida, proprio. Cioè, non ci pensi nemmeno quando fai sti... Arca miseria, sono stato io. Scana, grazie mille per sti acerciando pala alla. Allora, abbiamo anche Large Bold Cutter. This may could handy. Come possiamo utilizzarlo, ragazzi? Secondo voi, prego, in chat, suggerimenti. Evidentemente, non spoiler, però. Chi non ha giocato il gioco? Dai, chi non lo sa. Usa le cesoie per il filo. La madonna, c'è bisogno delle cesoie per il filo. Non basta semplicemente... Prenderlo. La porta. Quale porta? Grazie, vale, bestia, c'è la tua pala alla. E Pippo o P. Attenzione, però, sì è vero, c'era una porta che non si riusciva ad aprire. Dov'è che era? Che non mi ricordo più. C'era scritto da qualche parte non entrare. Forse era di qua. Però c'è scritto non entrare, ragazzi. Cioè, scusatemi, eh. Arca miseria! The door is still locked. Figa è dietro di me. Figa è dietro di me. Io lo so che è dietro di me. C'è scritto non entrare, io sto entrando. Effettivamente avrebbe tutta la ragione del mondo di colpirmi con un po' da cenere. No, a quanto pare no. A quanto pare no. Ho vinto. Beh, qua però è molto... Mi sento sicuro qui. Merci? Merci! Allora. Cosa ci resta da fare, ragazzi? Usiamo il cervello, dai. Dead. Posso suonare la campanella di nuovo? Oddio, pessima idea, secondo me, eh. Dal mio punto... Dal mio misero punto di vista, eh. La porta con le assi, Dino. Ok. E con la porta con le assi come dovrei aprirla? Con una cesoia o un cacciavite, perdonami. Ma come l'apro una porta con le assi con una cesoia, ragazzi? Cosa fate? Per farmi abbattere un albero mi date uno stuzzicadenti? Come funziona? Il filo da pesca, col filo da pesca. La batto col filo da pesca? Beh, certo. Ha senso. Ma che state... Col cacciavite... Col cacciavite e sdrade... Tu provaci. Vabbè. No. No. Ah, aspetta. Il filo lo posso... Che spavento. The pint of gun è 6.000 per i cento. Ho un'idea. Appena smetto di glitcharmi. Allora, provo... A... Raggiungere il filo con la cesoia. Dai. È una stronzata, ma ci proviamo. Devo andare per Digba. Ok. Vediamo se... No. Non posso più interagire. Meno male. Meno male. Che c'era scritto? Ma che cazzo? Da quando? Moment century disabled. Giulie 2727. Ok. E che cazzo devo fare? Ehi. Stavo non lì, eh. È vestita da architetta. Ehi. No, 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 no. Fatti i cazzi tuoi. Staccati dalla TV. È dietro di noi. No. Non voglio. Sta per... Sta per comparire in camera. Io mi giro. Ah, guardate voi. A me non me ne frega un cazzo. Che come ho fatto? Che tasto ho usato? Io non so che tasto ho utilizzato. Signorina? Bene. In quella camera che lei sta guardando ci siamo noi. Ora io... Tu dimmi. Altra fotografia. Madonna. Vabbè, io non guardo. Io non guardo. Non guardate neanche voi. Non guardate neanche voi. Ho scritto qualcosa sul mio diario. Aspetta. Mi sta letteralmente stalkerando in questo momento. Devo preparare me stesso per quando mi prenderà da dietro. A qualsiasi momento? Allora, siccome mi prenderà da dietro, ma io dietro non ho gli occhi, a sto punto vado in retromarcia. Mi ero dimenticato di quei manichini di merda! Dio! Che idiota! Pick up the long... Ah, grazie. Mi ha dato... Mi ha dato una corda. Una lunga corda. A golden key. Abbiamo ciapato su a golden key. Ok. 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 Quel manichino è compasso soltanto adesso? Bene. Ma le telecamere da quando ci sono? Io non me ne sono mai accorto. Voi le avevate viste, scusatemi. Buonasera. Buonasera. Allora, la chiave dorata potrebbe effettivamente servire per aprire quella porta lì. Credo, eh. Proviamo. Però c'è scritto non entrare. Cosa facciamo, ragazzi? Lei sta nei manichini a Raw, allora? Beh. Consoli? Grazie mille, bestiacea. Rottopalhalla. Enter. Entriamo? Savici. Bastardi. La porta è ancora bloccata. Come faccio ad aprirla? Meno male. Meno male. Meno male. Buonasera. È bello che io accendo la luce ultravioletta come se potesse difendermi in qualche modo. Io non so se ha senso. Tra l'altro, vi ricordate che quando siamo entrati c'era quella borraccia, quel cazzo che è come illuminata? Allora, abbiamo una chiave. E che cazzo ha per la chiave? Dio santo. Prendi la testate? To place? Ah, qua possiamo piensare le fotografie. Ah. Figo. Ce ne mancano due. Ok. A corn bulletin board. Seems like it missing whatever was the display here. Vabbè, le foto che abbiamo, che si è fatta con una Polaroid da ormai 70 euro su Amazon. Che fa? Foto scadenti. Allora, attenzione. Sono qua sul menu per cazzeggiare. Mi è caduto il cuscino della mia sedia da gaming. Per alcuni definibile trono. Io la definisco una spesa troppo costosa. A noi ovviamente ce l'hanno data gratis, se no col cazzo. E mi è finito il cuscino sulla schiena. Inutile dire che i brividi sono partiti da dietro il cervelletto fino al buco del culo. Perché ho pensato che lei, la nostra Merci, mi stesse nella vita vera bussando alle spalle. Siamo scemi? Mettiamolo qua. Allora, cosa può aprire questa chiave, ragazzi? Secondo voi? Porta di su? Ci porta di su la porta? La scatola? No, la scatola servono tre oggetti. Non una porta. La porta chiusa al piano di sopra. Quella con le travi? No, la porta... Ragazzi, la porta che abbiamo aperto... Chiusa al piano di sopra l'abbiamo già provata ad aprire. Non si apre, quindi non è quella. La porta accanto al campanello. Oh cazzo, è vero, c'è una porta anche lì. E effettivamente mi sono dimenticato di quel pezzo della casa. Ma io col cazzo che vado in quell'angolo. Basta guardare giù. Ok, non c'era niente. Altrimenti si sarebbe sentito il caratteristico. Suono. La porta è bloccata. Io il campanello non lo suono, eh. Sia chiaro, non lo suono finché non me lo dissi di fare lei. Io non lo voglio suonare. La porta che non porta al cinema. Quale porta c'è che non abbiamo aperto, scusami? C'è una porta... Ah, c'è una porta di qua, aspetta. Se non sbaglio, eh. Figa, non... Non vedo un cazzo, non vedo però. Aiuto. È troppo buio qui. Bene, non esiste più una via d'uscita. Siamo ritornati in cucina. La seconda porta, secondo piano. Ok, andiamo al secondo piano. Seconda porta, secondo piano. Cerchiamo sta cazzo. La seconda porta, secondo piano. Seconda porta, secondo piano. Seconda porta, secondo piano. Ma questo? Ma non c'era un quadro qui. Ah no, è una finestra sbarrata. Ok. 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 C'è questa porta qui. Madonna. Ok, siamo nella sua camera da letto. Pessima, pessima idea. May I found that... That you constantly purchase the clothing mannequins. Ok. What are those mannequins for? Chiede l'intervistatore alla nostra mercy. Well, you know, I figured it out will be interesting to have a head count of those who oppose me. Bene, perfetto. Allora, in sostanza, gli è stato chiesto, che cosa te ne fai di questi manichini, dato che ne hai tanti? Lei dice, pensavo sia giusto tenere un conto di tutti quelli che si oppongono a me. Wake up in the morning, looks at their physical representation straight into face. Ah, così può vedere la rappresentazione fisica direttamente, guardarli direttamente in faccia, anche se loro una faccia non ce l'hanno. Will scream at them to back off, but they just stand here and look at me. Ah, giustamente. Gli urla addosso di allontanarsi ed andarsene via, ma loro rimangono fermi. Mi manda ai pazzi. Beh, giustamente, l'intervistato risponde, beh, esattamente come ho risposto io. Giusto, risponde lui, giusto. Mi sembra sensato. Qui abbiamo pick-up bar, ok, una delle scatole. Ring, ring, ring. Ring it again. Remind me of my failure. Ring. Oh, cazzo, è lì. È dietro la tenda, la vedo. I don't think I want to do that. No, no, do that. Do that to me, please. Ma è là dietro, fate una fotografia. E io non voglio girarmi per prendere tutto quello che c'è sul muro. Oh, perdonami, la vedo lì col cazzo che mi giro, lo faccio. Ok, va tutto bene. Va tutto bene. Suono il campanello. Che cazzo vuol dire? Allora, calmi. Io, io. Io suono il campanello. Uno, due. Salgo al secondo piano? Non so che cazzo significhi. Le fotografie? Tre, vado alla stanza dove sei impiccata. Ah, forse è la stanza che non possiamo aprire, la stanza dove sei impiccata. Almeno credo. Oppure quella, quello è il disegno. Certo che per essere un architetto disegno un po' di merda. Cioè, senza offesa, signorina Merci. Sì, e quindi quello lì o è una lampadina o è un capio. Che cazzo di istruzioni sono? Non l'ho mica capita. Cos'è quella balla verde lì? What the fuck is? Ah, la seconda è l'ascensore, grande. Quindi, ma è però capito, però come cazzo ci arriva l'ascensore? Cioè, se suono la campanella mi si apre l'ascensore? Ah, ok. E quindi? Allora, ecco. Io vado, eh. Intanto le faccio qualche foto, ma nulla di... personale. Ecco. Ancora una. Soltanto un'altra. Ok. Allora io... Ah. 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 Quindi devo suonare la campanella Poi devo arrivare all'ascensore E dove cazzo Abbiamo una delle bar Tra l'altro è letteralmente un lingotto Attenzione, avevo ragione Potentially a gold bar Mi sembra un po' improbabile Ma come faccio a leggere Il libretto di istruzioni Cioè le istruzioni che abbiamo trovato prima Perché Non me le fa Mannaggia il cazzo Non riesco più a passare Allora io credo che lei sia dotata di Capacità Paranormali Io non suono il campanello adesso ragazzi Non intendo farlo Prima voglio andare alla stanza dei lingotti Ok Uno l'abbiamo messo Tra l'altro l'ingotto L'ingotto d'oro Cazzo sembra più di legno in realtà Dice ancora che ce l'abbiamo in tasca Ah no ok Ok Si è imparlato qualcosa Perché se premo il tasto io Continuo a dirmi l'ingotto d'oro Bene Mi sto incartando Allora con calma eh Torniamo all'angolo del Invencibilità E ragioniamo un attimino sul da farsi Non mi sento sicuro Non mi sento sicuro Ok Adesso sono sicuro completo Ora Dobbiamo suonare la campanella Però non mi ricordo il resto delle istruzioni Diceva Campanella Ascensore Però nel mezzo c'era qualcosa C'era una palla verde Che cazzo è quella palla verde ragazzi Ringa ringa Ho capito Dopo Il vostro piano Pulsante Sono nel frigorifero Sì Incredibile Nel reparto dei surgelati In questo momento Non è l'ascensore Ascensore e scale Apri la tenda Come faccio ad aprire la tenda Non si può spostare la tenda Ci ho già provato Tenete lo sguardo basso Un po' contrito Quasi direi anche Come segno di rispetto Per Il classico Il classico minuto di silenzio Per quello che è successo Alla povera donna La porta è chiusa Spero anche La donna fermi No, no, no Sam 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 No vengas tu sei Sam Oh Ho ringato Ho suonato T'ha salvato la campanella L'ho suonata E adesso E adesso Ah, la roba verde Era la luce notturna Secondo voi Possibile? Dovrei tornare all'ascensore Così mi dici almeno Mi pare un po' Di inculata Oh figa Che troia no Non credo di potercela fare C'ho un po' d'ansia Una di queste è lei Una di queste è lei Guarda giù Guarda giù Cretino È qui E non c'è l'ascensore Eh ma non c'è l'ascensore Ragazzi Devo andare al piano di sopra È vero Non possiamo tornare all'ascensore I numeri Secondo me Erano le volte da suonare Ah Prova la radio rossa Non si accende ragazzi Non posso neanche interagirci Spavento Cazzo Intanto sono le sette Il tempo va al contrario Ottimo Stanza scatola lingotti Eh quindi Se c'è qualcosa è nell'ascensore È capito Non so come arrivare all'ascensore Torniamo al piano di sopra Va bene Ok Sono invincibile Sono prestante Sono Confuso Carca miseria Che cazzo è Questo Che cazzo è sta roba È ancora qui Signorina Ok Credo che abbia Sostituito Se stessa Con un manichino Quindi ogni volta Per capire che cazzo Do fare È di tornare qua Siamo scemi Allora Una Sono Se suono Una volta Questa è la vostra idea Che può essere plausibile Se suono una volta La campanella Non si sa che cazzo succede Due volte Si apre l'ascensore Ma lei non è più qui Guarda Ho tutto sotto controllo Potrebbero essere i finali del gioco Assolutamente Assolutamente I tre lingotti Ci portano ad avere Le foto C'è scritto che Se colleziono tre lingotti Ottengo Tutte le foto Probabilmente Da mettere sul muro Una volta trovate Tutte quante le foto Credo di avere Accesso poi Alla porta Dove lei si è impiccata Impiccata nel senso Goliardico Twitch Si intende che è scivolata Su una corda È scivolata Poi la testa Ti si è infilata Di una corda Ecco È classico Non scherzo Solitamente Prova a suonare Il campanello tre volte Allora Il problema è che Io ho provato a suonare Più di una volta Il campanello Il campanello Scusate Suonare la campanella Mi ha ricordato Il sifferimento ancora L'ho davvero fatta Incazzare Benvenuto nel club Allora È stato Più soft Del previsto Regola dei jumpscare Ragazzi tranquilli Regola degli horror Adesso che abbiamo subito Un jumpscare Abbastanza apocalittico Per circa Un'altra ora Noi non avremo Nulla Non cercatrà nulla Ora che Lei abbia poi dipinto Con il nostro sangue Sul muro Dai 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 Mori bastardo Questa è un'altra questione Abbiamo una chiave blu Credo Tutto quello che abbiamo Nell'inventario Si An old kiwi description B Basement No C'è anche un piano terra Beh col cazzo Io comunque adesso Ragazzi ve lo dico Dopo questo Dopo ciò che mi ha fatto Sta stronza Io la voglio morta Quindi cerchiamo Dove sei Cazzo Mori Dove sei Vieni fuori Ah te la canti eh Dove cazzo sei È qui Si sta avvicinando Non vedo Si muove per la casa Siamo fottuti Siamo fottuti Sta giocando nel suo territorio Io non mi ricordo neanche Che come cazzo è fatta la casa Di che forma E non abbiamo La batteria carica Per il nostro Per la nostra telecamera Non capisco perché Sti mongoloidi Nei giochi horror Si ostentano Ad andare a viaggiare All'interno di stanze buie Con una minchia di telecamera Anziché con una torcia gigante Ok 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 Lei sta nel buio Stiamo anche noi nel buio Non so se Non so se Orca miseria vacca bastarda Dunno tenter I still locked Perfetto quindi la chiave non è questa Scendo eh Non vedo ma scendo eh Sto scendendo Signorina 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 No 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 Accendi la luce Guarda per te Accendi la luce Guarda per te Guarda per te Accendi la luce Ma io sento che si sta muovendo Ma dove cazzo è? Che cazzo ti ridi? Cretina Se ne sta andando? No, non va bene ragazzi Non va bene Questa si sposta per la casa Noi neanche la vediamo È frutto della nostra fantasia La finestra? Sai perché è tutto silenzioso? Non mi piace Io non mi muovo da qui Non me ne frego un cazzo Mannaggia il cazzo Sono nell'angolo Sono invincibile Dio santo Che cos'è che mi blocca? Era lei Ok calmi Calmi No ma ragazzi C'è qualcosa che non quadra Io la sento ma non la vedo Dove cazzo è? Mi dice che l'ho fotografata? Oh merda Ma allora è veramente uno dei manichini Continua a dirmi che la sto fotografando È qui davanti a me Possibile? Noi la vediamo come manichino Caratteristico figurino È nelle fottute pareti Sì veramente Allora aspetta 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 Tanto non ho più paura di niente Sono un buoto ormai Signorina Mi scus No da qua siamo arrivati Ma il fatto che lei si muova Brutta bastarda Vedi che si sposta Sta stronza Ma dobbiamo seguirla Che cazzo devo fare? Devo seguirla? Vedi dalle telecamere Ok quindi dobbiamo tornare piano di sopra Eccola Die dead Signorina Vediamo il controllo Tutto a posto Si faccia la sua cantata Ok così Brava Si rilassi Si rilassi Si lasci fare Sta per prenderci un jumpscare maestro La voce veniva dal bagno Ok non posso usare le telecamere ragazzi Che cazzo ti ridi? No ti sputo dal piano Dal piano mezzanino Tu Mi dice di andare nel basement Nel seminterrato Ma io non l'ho trovato Sto cazzo di seminterrato No ragazzi si muove Io sento Con l'audio posizionale Sento che sta stronza Si sta spostando Il suono non è fermo In un punto Si muove Mi è appena passata davanti Ma non c'è La porta del campanello Oh Cristo No è vero Minchia ragazzi Madonna non ce la faccio No 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 Mio dio Allora aspetta mi metto qua nell'angolo eh Guarda giù Rilassati La porta vicino al campanello, sì, sì, sì È la porta vicino al campanello, ragazzi, è lì che dobbiamo andare Per ricordarmi dove cazzo è sta porta Io sto fermo La sento dietro di me Merda, 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 merda Faccio finta di nulla Guarda giù Va tutto bene Va tutto bene Che faccio, suona il campanello o entro dentro? Vabbè, mi ha aperto la porta La secondo, ok? Signorina Proseguo, eh, ci sta Benissimo, le zanzare Quelle che solitamente accompagnano un cadavere O un pezzo di merda Forse io sono entrambe le cose Non intendo girarmi Ma intendo continuare a scavare in questa follia, in questa madness Orca miseria No Io non posso farcela, ragazzi Io non credo di farcela Non vedo niente Siamo nel seminterrato Oddio, no No Bene Ok Ok, abbiamo quello che sembra una sorta di generatore con dei fusibili The door is locked What a weird key insert No, no Ci serve una chiave Una strana chiave A forma di Beh, di esagono Di ottagono Ci serve una chiave a forma di ottagono Io dove cazzo la trovo? Una chiave a forma di ottagono Sì 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 No Belle fondamenta E strutturate bene Vabbè, d'altronde È lei L'architetto Minchia C'è un No No Pure 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 Uno fottuto Allora, seguiamo le lucine Eh, che dici Salve Salve Allora, c'era una fotografia qua Vi è un'altra fotografia qua Eh, ho trovato delle chiavi? Ho trovato, sì Ho trovato la chiave a forma Ma è un ciucciotto per bambini Ok Ok Va tutto bene Che cazzo è sta roba? Vabbè Non chiediamocelo Voi ridete scherzate Ma questa è la casa della famosa stilista Edna Modetz E quella era lei Spavento! Sei pazza? Ha osato tossire Ha osato tossire Eh, a me Io mi son perso Guarda 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 Un colibri Perso nella tormenta Come farò? Come farò? Eh Come farò? Ma il suono Ma il suono Ma ti pare normale La madonna Non ero abituato Ecco Salve Perché ho più paura Perché ho più paura di prima Siamo chiusi dentro Bene Ok Ok No No, no, no No, no, no L'ho vista L'ho vista Bastarda Dove sei? Dove sei? Brutta Stronzo Dove sei? Ho visto qualcosa passare Vieni qua Merda Sei una merda Un'ascia Adesso Adesso ce l'ho io L'arma Usala Estrai l'ascia Imbecille No Non puoi usare un'ascia Per aprire una via Attraverso le sbarre Tu ti apri una via Attraverso la carne La carne E le ossa E gli organi Di questa stronza Che ci tiene Quari inchiusi Va bene Brutto Imbecille Pacifista Di merda Tu te ne torni Da qui Con la coscienza sporca Non me ne frega un cazzo Tu te la sognerai la notte La scena in cui L'aprerai a metà Non mi interessa Dover avere dei traumi Devi raccontarlo a qualcuno Dopo Mentre bevi una bottiglia E poi ti spacchi il bicchiere In faccia Dicendo Sono stato io Scusate Scusate È dietro di me È dietro di me Non ce la faccio Dopo che l'ha aperta Dice merci Non voglio vedere Guardo giù Io guardo giù È davanti alla porta Quando aprirò la porta È davanti a me È un corridoio In un gioco horror Non è mai una cosa buona Stiamo per avere un jumpscare Come vedete Io sto mantenendo Il perfetto controllo Della situazione Non avrò paura di niente Dio Cristo no Ok Ok Ma tutto bene Ma tutto bene È andata bene L'abbiamo fotografata Otto volte Perché è tutto spento L'ha accesa già la luce Eh Ok I santoni Intanto il radio Non mi stai Ok 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 Ho tutto bene Allora Cosa dobbiamo fare adesso Ora posso aprire la porta Con le assi Giusto 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 Abbiamo l'ascia Abbiamo l'ascia Lascia fare Che cazzo Cosa facin Hello Ok 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 Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Non doveva impiccarsi qua No 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 Signorina Signorina Aspetti Dio Cristo Non guardare Si No Non volevo Dove ha pesa Complimenti Una carrucola addirittura Per questa grande impresa Ok Ok Leggi la nota Giornale Mi nome è Joseph Schipping I've read this Giornale Just in case Giornale è francese Just in case Something goes wrong Che succede? No 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 Io non riesco a leggere così No io non riesco a leggere così Non riesco a concentrarmi I want you to know that I was here and I probably die here Perfetto Sono stato qui e probabilmente sono morto qui I came to investigate the suite Sono venuto per investigare nella stanza 776 Did this because Mercy Schipping is my mother Ah Quindi Joseph è il figlio e Mercy è nostra madre E sua madre I are only son Joseph Schipping 27 years old Ok sono il suo unico figlio Joseph Schipping da 27 anni In the time this war to end Ah volevo incontrarla per la prima volta Many claim suite 776 non è reale Molti dicono che la stanza 776 non sia vera Apparentemente Permesso di entrare in la suite No luck in trigger the cycle Se entra all'interno della stanza senza permesso Questo trigger al ciclo Should I say which luck? With luck they did not trigger the cycle O dovrei dire che senza lucchetto Non si apre Non trigger il ciclo Vabbè non so che cazzo intenda dire Sono di fronte alla campanella In questo preciso momento Nel mente sta scrivendo E sono qua per suonarla La cosa divertente È che ho la sensazione È che non vorrei suonarla I feel like I rang it before And was sent right back Ho la sensazione che io l'abbio suonata di prima E sono ritornato indietro Ci riprovo ancora Comunque andrò a suonarla lo stesso Penso E documenterò tutto quello che succederà Con le mie fotografie Vedremo Perfetto Io ho paura A muoverla visuale Comunque Notate la mia incredibile traduzione Adesso si gira e ti abbraccia Ma io non Non è più davanti a me Ah no È davanti a me È nell'angolo davanti a me E come faccio a smettere di leggere però la pagina? Ah no È ancora appesa Ok No No Sì sì signorina Ok ragazzi Tenterò un approccio diretto con lei Lei voleva prendermi da dietro La prendo da dietro io Walk away? Ok Scooby Dooby Doo Where are you? Ok Ho fatto zero foto Mi dice È stato tutto quanto inutile Mi ha detto Ok Va bene No non penso di voler indagare oltre Sì volendo si dovrebbe ricominciare da capo Credo che abbiamo completato il ciclo Quindi ogni volta succede questo? Bene Beh arrivederci È stato un piacere Jumpscare in arrivo? Assolutamente sì E me lo sento dentro Quindi sono tranquillo però Non lo so Ho come questa consapevolezza che Tutto si sistemerà Tutto si sistemerà Mi metto qua nell'angolo Vibrando Si sta Oscurando tutto Ma perché abbiamo finito il gioco Vero? Vero? Per favore Sì è finito Oh L'abbiamo finito ragazzi Orca miseria I have so many questions Ancora Che cazzo c'è There is a way to save my mother Ah ma allora noi siamo il figlio Ma scusami Vabbè mi ha scritto noi la lettera What the fuck is going on? There is a Be a pattern of some sort A sequence of some sort That must be Commenced Quindi in sostanza Dobbiamo trovare Dobbiamo cercare di rompere il ciclo Beh sapete Credo che non me ne freghi un cazzo Nella storia di lui Nella storia di sua madre Per quanto sia stato Intense Da quanto è stato intensa Questa serata Direi che va benissimo Anche così Eh sinceramente Lo dico Lo dico con tutto L'affetto possibile Per la nostra merci E per il nostro Joaquin Come cazzo si chiama Jaffin Quel cazzo che è E ho fatto lo stesso Identico finale Cioè rendetevi conto Ragazzi Abbiamo trovato Zero easter egg Cioè sono andato Peggio Di prima Sono andato peggio di prima Allora una cosa però interessante È che questo gioco A quanto pare Non dura in realtà 50 minuti Nel senso Potremmo riportarlo Non settimana prossima Perché adesso vi do Un annuncio incredibile Ma potremmo riportarlo Eventualmente più avanti E cercare di fare Gli altri finali Di collezionare Tutto quello che c'è Da collezionare Non male Un horror carino Fottutamente creepy La parte più spaventosa Non è stata Quando ci ha Agguantato Paradossalmente Ma tutto il resto Incredibile Incredibile Beh Allora Ah gli avete dato Valutazione 42% di voi Ha votato 5 Da 1 a 5 Ha votato 5 A questo gioco Bravi 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 Avete buon gusto Allora bestiace Per chi sta andando È stato un piacere Per chi rimane Invece Sappiate Che Noi adesso oggi Facciamo le consuete 4 chiacchiere Grazie per ogni cosa Vi invito a scrivere Ai social Soprattutto Instagram Che lì avete La programmazione giornaliera E settimanale E avete post Unici ed esclusivi E poi anche YouTube Che uscirà roba nuova Che adesso non vi sto a dire Però prima di andarvene via Prima di andarvene a fare in culo Aspettate 2 nanominuti Perché vi devo raccontare una roba Allora intanto Come potete vedere La maratona Abbiamo cambiato un po' di cose Nel mentre che questo pianoforte Va a A Incorniciare l'attimo Ok Allora Cosa numero 1 Mortuari As La live sul gioco Horror Mortuari Assistant La portiamo E la portiamo lunedì Con tutti i DLC Quindi siateci Anche se non siamo arrivati A 2300 E abbiamo spostato Diciamo il goal La sub goal Alla maratona a 4 ore Quindi se volete un'altra maratona Da 4 ore Arriviamo a 2300 Perché altrimenti Io lo sbatti Di cancellarmi La riga del culo Sulla sedia Non me lo faccio Con tutto il rispetto Ovviamente Con tutto il rispetto E ovviamente Poi sceglieremo anche La giornata Il momento in cui Bla 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 Nel mentre Sappiate che io Non riesco più Ad uscire dal gioco Eccolo qua È andato al menu Quit Ah devo tener premuto 9 per quittare Ce l'ho fatta Grazie al cielo Meno male Meno male Madonna Vabbè Vabbè È il gioco che non vuole uscire da me Probabile Ragazzi Ma ci rendiamo conto Che nel giro di un mesetto Abbiamo tipo Abbiamo giocato Penso ai giochi più inquietanti Che ci sono Cioè Francamente Perché Allora Un po' di Jays Allora Il nostro Benamato Come cazzo si chiama Nine Child Street Mi ha Devastato Lo dico Con tranquillità Mi ha devastato Questo 776 Non è da meno Ok E settimana scorsa Abbiamo portato l'altro Ancora Che non mi ricordo Come cazzo si chiama Anche quello Molto inquietante Cioè Voglio dire Mi sa che per un po' Mi do la macchia Stiamo un po' tranquilli Magari facciamo qualcosa Di un po' Sempre in ambito horror Ma più cazzaro Anche perché Altrimenti ragazzi Veramente Finisce canna certa Tiro un urlo E voi vedete Una sostanza rosa Sferica Raccolta in questo Involucro di carne Detta ugola Che vola sulla webcam E mi censura Mentre piango Lacrime di sangue Ho fatto una fanpage Su di te Ti piace? Sì assolutamente Qualsiasi cosa Che alimenta il mio ego Per me è eccezionale Guarda io non dico di no Wow wow Grazie grazie Voglio saperne di più Però Ho anche un po' paura Ma voglio saperne di più Dino ma Red Dead Redemption Allora Il Pingu viola Ti racconta una storia La storia in cui Un deficiente come me Decide di riportare Nauge Il buon caro Red Dead Redemption Gioco Sconosciuto Della Della Rockstar E decide di farci Una serie Ok Inizio a fare la serie Su Twitch Ad alcuni di voi piace Alla maggior parte Comunque no Perché Non siamo in tanti Quando si gioca A Red Dead Redemption Ma non importa Decido di portarla avanti Di continuarla Perché comunque Intrattenente E tralasciando i dialoghi Iniziali Dell'inizio campagna Che sono una rottura Di coglioni Perché è un gioco Che diciamo Carbura lentamente Felicissimo Felicissimo Proseguo con la mia vita E cosa scopro Beh che a quanto pare La Rockstar Sta per rilasciare Un Remake Cioè io non ho Di Red Dead Redemption A breve Forse entro la fine Dell'anno Cioè ditemi voi Cioè se non devo essere Io se sono Non sono preso Per il culo Quindi che cazzo Di senso ha A sto punto ragazzi Aspettiamo il remake E lo ricominciamo Con il remake Perché probabilmente Hanno messo nove robe Remastered Non remake Sicuro? Cioè ma dai Fatto sta comunque Che due coglioni In teoria il 2 Prima dell'1 Sì sì io parlo del 2 Red Dead Redemption 2 Remake è un'altra cosa Non lo so che è un'altra cosa Ma è una remastered O un remake? Io ho sentito remake Lo compro Piano Lo compriamo noi per voi Non fate lo sforzo Di spendere soldi Per la stessa roba Remake in teoria Sicuri? Ti neguffiano le ginocchia? No Hanno i tentacoli La remastered Non avrebbe senso Non ho remastered Beh in realtà Andrea Avrebbe sensissimo Farebbe senso Ma avrebbe senso È una remastered Ci sta ragazzi D'altronde La Rockstar l'ha sempre fatta La remastered Perché non avrebbe senso La remastered Ma tu ogni tanto esci Con queste puttanate Che veramente Sei da accarezzare Guarda Da prenderti Rimpicciolirti Piccolo 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 E tenerti lì Tra le braccia Andrà tutto bene Tipo Benjamin Button Ti faccio invecchiare Ti faccio invecchiare Ringiovanire allo stesso tempo Ti trasformi Più un piccolo Ritorni in feto E diceva tutto bene Ci penso io a te Lo so che il mondo Ti fa male Ma ci penso io a te E poi col cuscino Dino cosa sono i plankton Come cosa sono i plankton I plankton Sono una specie Di pinguini Ragazzi I plankton Sono Credo Il mio animale guida E credo forse La mia Scorsa reincarnazione Io ero un plankton E nuotavo lì Tranquillamente Negli oceani Insieme agli altri I miliardi di 800 cloni Al mio fianco Quando una balena Ci ha succhiati Nelle sue fauci Attraverso i suoi I suoi Come si chiamano Fononi Di fanoni Come cazzo si chiama Non mi ricordo più Come si chiamano I denti delle balene Vabbè I pettini Ci ha succhiato dentro Dino cosa sono i polpi I polpi sono quelli Che possono trovarti Nel culo Nel naso È particolare No quelli sono i poli Attenzione Sono un po' confuso Perdonami Traumatico Sì sì assolutamente I peggiori nemici Dei granchi Plankton Non lo so Le balene Sono i peggiori nemici Dei granchi Che a sua volta Sono i peggiori nemici Dei cavalli Ma qualcuno ha urlato Ah ok Ho sentito ululare Però i cani sono zisti Comunque i rumors parlano Di un remake Del primo Red Dead Redemption Non del secondo Ah Del primo Vabbè allora Perché del primo Figa Fa schifo il primo Dai Fa cacare Il primo Red Dead Redemption A me di Arthur Morgan Me ne sbatto i cogliodi Sì di come cazzo si chiama Ho sbagliato Scusatemi Di Di coso lì Me ne sbatto le palle Ma no Del primo davvero Sì Ragazzi Il primo fa cagare Dai Il personaggio È di un fastidioso È senza È senza anima Non Cioè George Marston Non riprende Grazie Paolo Non riprende Non riprende Non riprende Assolutamente Un 10% Di quello Che è Arthur Morgan Perdonatemi Dai Ma per un cazzo Proprio Quindi non lo porterei più Red Dead Redemption No Allora a sto punto Se il remake Del primo Però attenzione Sarebbe anche bello Vedere un remake Di Red Dead Redemption Undead La versione Con gli zombie Ecco quella Quella è quello Che mi è piaciuto Io Red Dead Redemption Lo dico Il primo Mi ha fatto cagare Red Dead Redemption Dead è stata una delle cose Più divertenti Che abbia mai giocato Perché il far west Con gli zombie È un'idea geniale Sembra di vedere Un film di Romero Che piglia vita Mentre per quanto riguarda Il migliore Tra i Red Dead Redemption Ritengo Red Dead Redemption 2 Un'opera eccelsa Inarrivabile Tra l'altro Ma in generale Anche nel concetto Videoludico C'è proprio qualcosa Di allucinante Però attenzione Non mi ricordavo Che all'inizio Che fosse così Cazzo Perché comunque Di farsi 30-40 minuti Di dialogo Con Cazzini Per quanto sia Graficamente eccelso E per carità Ma con questi tizi Che mi parlano Con questa lingua Insomma Abbastanza sbiascicata Da sud degli Stati Uniti Che Dopo poco Anche il cazzo Per carità Che mi parli Mi racconti storie Bene o male Sempre uguali La tizia piange Se parli con una donna È perché sta piangendo Che il marito È praticamente andato Umbriacarsi E poi è deciso Di cavalcare Verso l'orizzonte E si è ritrovato nudo In mezzo alle capre E tu George Marston Devi prenderlo a Cefone E riportarlo a sua moglie In sostanza Questa è sempre la storia Se invece È un tizio Che è seguito dalla legge O è la legge Lo perseguito Lui è la legge E non funziona In entrambi i casi È sempre la stessa roba Quindi un po' Ti cagli anche i coglioni La storia di Marston È bella La storia di Arthur È una figata Di Morgue Figa Continuo a mischiare i nomi Vabbè avete capito Sto parlando di Red Dead Redemption 2 Perdonatemi Goku o Vegeta Attenzione Arthur Ho scambiato i nomi Perdonatemi Gli avvenimenti del 2 Sono prima dell'1 Ho capito Lo so L'ho già giocato L'ho già giocato Red Dead Redemption 2 Lo so Cosa c'entra E quindi Che c'entra La pubblicità E gli è uscita la pubblicità Adesso che gli ho risposto Incredibile Nessuno gli dica un cazzo Nessuno gli dica un cazzo Ma che ci avete una certa ora È proprio vero Andrea Cosa si fa stasera Stasera giochiamo A suite 776 Allora No No C'era Avevo un programma Ma non mi ricordo più Che cosa dovevo fare Raga sono senza parole Sai cosa mi fa ridere Che voi moderatori Ve la prendete troppo a cuore Secondo me C'è un problema Di voi moderatori Dovete Dovete rilassare Dovete prenderla Non come un cazzo di lavoro No voi non siete Non siete Non siete I secondini delle celle Ragazzi State calmi A meno che qualcuno Faccia una stronzata Sì troppo passionali Ma non troppo Troppo passionali Di poco Vi incazzate troppo Ragazzi State calmi Ma questa è colpa tua Andrea Questa è colpa tua Ma Ma smollali Che cazzo te ne frega Se due o tre Fanno un pochino i trollini Fanno i coglioni Chi se ne fotte Mamma mia Eh che Ma chi se ne frega Lascia perdere Ma li hai destrati così Ma per carità Però così Cazzo vi viene un ulcera Tra cinque anni Neanche State calmi Non sta succedendo niente Mamma mia Se uno scrive una cagata Si può anche ignorare Non è che devi stare sempre A rispondergli A mutarlo A zittirlo Poi vabbè Si Continua a spammare A rompere il cazzo Allora Attenzione Facciamo così Ragazzi in chat Se siete nuovi Perché i vecchi ormai Sono abituati Magari siete anche giovani Per carità Magari non sapete Come scherziamo noi Ora Non fate i coglioni Cioè potete ridere Scherzare quanto volete Potete fare domandine Del cazzo Quello ci fa piacere Ma non ripetete in eterno La stessa cosa Perché se non vi sto rispondendo Io l'ho letta Non vi rispondo Perché è una stronzata Tutto qui Quindi non cercate Continua attenzione Perché se cercate Continua attenzione Una certa I moderatori si ingrifano Vi silenziano Per minuti e minuti Poi alla terza volta Che lo rifate Vi bannano E' inutile che poi Iscrivete al moderatore Ma che cosa ho fatto Lo sai benissimo Che cazzo hai fatto Dopo la decima volta Che hai rotto i coglioni In chat Detto ciò Voi moderatori Calmi Va tutto bene Va tutto bene Calmi Mamma mia Certo che ho letto anche te Io vedo tutto Assolutamente no I moderatori esistono Perché io non Leggo la chat Soprattutto quando gioco A meno che Sto guardando in camera Scusatemi sotto Perché Guarda Adesso sto leggendo Quello che state scrivendo Ora no Ora no Adesso si Ora no Ora no Perché ho lo secondo schermo Là sotto Spam di E Esatto Di nocchi su tutto Si sono come la scimmietta Che c'è in Toy Story 4 Quella lì Con i piatti Poi era Toy Story 3 Figa basta Oggi non sono sicuro di niente In realtà un po' Sempre però Non importa Comunque non ci sono Notizie interessanti Di cui discutere Avete per caso Dei trailers Perché per caso Qualcuno di voi Ha chiesto una Una reaction Io non mi ricordo Forse si forse no Scusatemi ma Non ho memoria Non so se Cicciata fuori una reaction Moderatori Se per caso Vi ricordate A sto punto Reactiamo a qualche Puttanata La suora Ritornerà Ritornerà Prima però Facciamo Allora Probabilmente faremo Mortuari Hess E poi la suora Suor Matilda Hai visto la serie The Crowded Room No Non l'ho vista Di che parla Di una stanza Piena di gente Basta Ho deciso Garrod Mi hai fatto Mi hai fatto Mi hai fatto venire in mente Un'idea E questa è colpa tua Date la colpa a lui Date una colpa a lui Eccoci qua Sbang Tear list su Toy Story Mi dispiace Mi dispiace Ma l'avete decisa voi Dal primo All'ultimo Che è il quarto capitolo Su Toy Story Dai che la colpa è di Garrod Sì Derrick Sì 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 Discutere Allora intanto Chi di voi non ha visto Toy Story Chi di voi non ha visto Toy Story Ma che figazzo Chi di voi non ha visto Toy Story Ma che fanno cagare Ehi ma non capisci un cazzo Con affetto Ma non capisci un cazzo Chi di voi non ha visto Toy Story Moderatori Fate partire un sondaggino Voglio sapere O sì o no Quanti di voi non hanno visto Toy Story Allora Ma dovete essere sinceri No che mi scrivete Sì l'ho visto Poi non sei un cazzo E dici che fa schifo Attenzione Ora io non sto puntando dito Contro nessuno A me l'orso Mi fa paura Ah sì Quello del 3 Stavo un attimo Cercando di capire Ma perché sono messi 2 3 1 4 Sarà dislessico Chi li ha messi in ordine Dai Andrea Fai partire sto sondaggino Al volo Io solo uno Ma come ragazzi Ma dovete guardarli tutti Ma non si Non si fa così Toy Story Va visto tutto Dai figa Andrea Mio Dio Che nervi Ma che senso ha Che senso ha Come Come Cazzo Che fastidio Come quella cagata Di Netflix Porca puttana Ti è piaciuto il contenuto Sì no Adoro Ma adoro Che cazzo vuol dire Se ti dico sì Vuol dire che già mi piace Imbecilli Per fare il meme di merda Per sentirti più giovane O per sentirti più donna Andrea Qual è il problema Cosa stai cercando di fare Cosa stai cercando di dirci Svalvolo stasera Il mio personaggio preferito Di Toy Story Buzz Lightyear Comando spaziale Sapete perché Perché poverino Lui non capisce un cazzo Di quello che sta succedendo Cerca di dare il meglio Adoro Adoro Incredibile Adoro Allora Awesome Great Good Ok Me Partiamo con Il primo Toy Story Ovviamente il primo Toy Story Ragazzi è stato L'apice Della Pixar E di quello che è L'animazione In computer grafica Fin qua Non ci piove È stato l'inizio Della computer grafica Secondo me Nell'animazione Che poi secondo me È proprio così Anche dal punto di vista storico Credo sia stato il cortometraggio Più lungo In 3D Quindi Tralasciando questo Quindi dal lato tecnico Aperto le porte A tutto il mondo Che c'è dietro È anche un film Di valori Inraggiungibili C'è l'amicizia C'è la famiglia Ma non in modo spicciolo È di una cattiveria Questo film Aberrante C'è l'invidia L'invidia sociale La prima cosa che capisci E percepisci di Toy Story È l'invidia Bastarda Che nutre nei confronti Woody Nei confronti di Buzz Giocattolo nuovo Perfetto In tutte le sue forme Abbiamo il futuro Lo sceriffo del passato E lo sceriffo del futuro Che si incontrano E si scontrano Ovviamente Per gli interessi Di questo bambino Solo che uno dei due È svalvolato E pensa di non essere Un giocattolo Ma di essere effettivamente Uno Space Ranger Anzi però In realtà È soltanto un balocco Per bambini Il primo capitolo Ragazzi Io lo so A memoria Tutto Lo so a memoria Tutto Lo avrò visto Non scherzo All'incirca 102 volte Anche di più Molto probabilmente Avrò consumato La cassetta da piccolo E sto consumando Le mani anche Nel senso Da grande Toy Story È stata la mia infanzia Ed è il mio film D'animazione Preferito Quindi sti cazzi Non Sicuramente Rimane La perla Ultima E definitiva Tra l'altro Qua si plasmano I personaggi Si plasmano In un modo Abbastanza Direi Grazie Costicina Grazie Grazie Ciao Manca poco Per l'anno Alisab Vai così Le mani Le mani Cosa Lascia stare Si plasmano I personaggi Il doppiaggio Eccesso In italiano Non ne stiamo Neanche a parlare Certo È un film Vecchissimo Ormai Quanti cazzi di anni Avrà 30 E fa ancora Il culo Ancora Le scarpe A tutti Gli altri Film D'animazione Io non c'è Niente Che ha fatto La pixar Che amo Di più Di tuoi storie Niente Un cazzo Non mi interessa Non mi interessa Cosa sta uscendo Non è che faccio Il malinconico Ragazzi Ma è un Conce Immaginatevi Essere un bambino Che va a vedere Al cinema Una minchia Di film Dove È già È proprio geniale Di per sé Dove I giocattoli Di casa tua Quando non li vedi Di notte Quando giri la testa E prendono vita È un fottuto Horror È un fottuto Horror Per bambini Fa paura E però Allo stesso tempo È affascinante Cioè È la realizzazione Di una fantasia Che è un bambino Che quando fissa Il suo pupazzo Il suo giocattolo C'ha voglia Di comunicare Di parlare Con lui È il suo migliore amico Per certi aspetti Magari in tenera età È geniale Sotto tanti Sotto tanti punti di vista Quindi Inarrivabile Il due È meglio dell'uno Io non so come cazzo Sia possibile Ma il due Cioè Il due è allucinante Perché Magari non avrà Lo stesso La stessa morale Molto pesante Del primo capitolo Che poi in realtà È il cazzo Perché qua C'è Forse più Qui c'è il concetto Dell'abbandono Ok Qui c'è il concetto Dell'abbandono E del ruolo Di chi siamo noi Per gli altri E per noi stessi Proprio il due Diciamo che Dal punto di vista morale Forse È anche più ampio È matura Matura sempre di più Però Anche dal punto di vista Tecnico Fa un balzo da giganti Rimani a bocca aperta E poi Si presenta Il due Inizia con Buzz Nello spazio Iniziamo a vedere Un po' quelle che sono Diciamo le trame Secondarie dei personaggi Iniziamo a capire Chi sono i personaggi Perché scopriamo anche La storia di Woody Che era un giocattolo Degli anni Sarcazzi Cos'era 30-40 Cioè roba Wow Il due È eccezionale Eccezionale Sembra Sembra Un Un videogioco Fatto benissimo Cioè Ogni singola Una singola situazione Ti fa Ti fa Sbavare Ti lascia Veramente sterfato La parte dell'ascensore Non sto neanche a spiegarla Le citazioni che ci sono Sono sprecate Stinky Pete Un personaggio eccesso Un vero villain Che Cazzo Quello è un cattivo Perché tu dici Cioè adesso I cattivi della Pixar O dei film Disney Li riconosci Sono cattivi Perché sono cattivi Questo è un uomo Rinchiuso dentro una scatola Da quando è nato E Vuole Vuole Assolutamente Finalmente Uscire da lì E finire Ogni una cazzo di mostra Quindi pur di arrivare Al suo obiettivo Decide di rapire Un tizio qualsiasi Che non ha mai visto Che è Woody E tenerselo con sé Cioè Porca puttana È una cosa cattivissima Proprio L'egoismo massimo Totale In più Scoreggia Quindi fa anche ridere E poi c'è Ci sono delle scene Eccezionali Come quando viene Ricucito Woody Perché si è rotto il braccio Gli sistemano il cappello Che c'è il vecchietto No Il restauratore Che tra l'altro È lo stesso Del cortometraggio di Pixar Degli scacchi C'è una figata devastante E c'è quel pezzo lì Che lo sistema E che è un po' Un ASMR Di dei tempi antichi Di un maniscalco Di un artigiano Che Proprio Vedi che Adora la sua arte La ama Incredibile E vedi che gli pulisce Il pezzo dove cancella Il nome di Andy Dallo stivale Con la tempera Fa male Figa Quando fa con l'acetone Così e cancella Mamma mia Mamma mia Che poi c'è quel concetto D'appartenenza E di famiglia Che è subdolo e bastardo Io sono il giocattolo Di Andy E lo sarò sempre Mi vien da piangere Puttana vacca E l'amicizia Che ha Con i suoi altri Compagni Quindi con Buzz Soprattutto Perché Gli altri li conosce Da più tempo Ma con Buzz Ha legato perché Perché Buzz è il giocattolo Preferito di Andy Non è più lui Nell'uno Era Buzz Capito Sono invertiti i ruoli Quindi c'è questo senso Di amicizia Ma anche di rispetto C'è una cosa Che Che non si Non si può arrivare Così In un altro In un altro In un altro Film Della Pixar Mi dispiace Siete troppa roba Concentrata Il terzo capitolo È buono Il terzo capitolo È buono Perché Allora La scena valida L'unica scena valida È la scena Del Come si chiama Della discarica Lì c'è da piangere Ho pianto Ammetto tranquillamente Che una lacrima virile Mi è scesa Poi ho singhiozzato In macchina Per 12 minuti Ma una macchina virile Lì al cinema È scesa Il pezzo dell'artiglio È qualcosa che fa male Sì Sì Però Però Attenzione Per me è un film Abbastanza deboluccio Nel senso che C'è il passaggio di proprietà Da Andy Alla nuova ragazzetta Carino La parte finale Fa male Ma questo film Secondo me Doveva essere Allora Attenzione È bellissimo Perché non è un film di merda È bellissimo È un film per noi Che abbiamo visto I primi due Quindi Ci sta Ma perché mi fa incazzare Perché questo film Poi apre Al quarto capitolo Questo doveva essere L'ultimo Finale Definitivo C'è stato il passaggio C'è stato il passaggio Di proprietà Alla bambina I giocattoli Hanno trovato Una nuova Una nuova Nuovo padroncino E dovevano stare Con lei Basta Doveva finire lì Tutti quanti insieme Ma poi Qualcuno Qualche imbecille Della Pixar Ha deciso di fare Il quarto capitolo Che è una merda Il quarto capitolo È una merda L'unica cosa bella Del quarto capitolo È che hanno dato La voce Al cucchiaino Di merda A Luca Laurenti Perché per il resto Fa schifo Come hanno osato Farmi questo A Buzz e a Woody Un legame che va Da 35 anni Quel cazzo che è 30 anni Che stanno insieme E concludono E mi dispiace Per gli spoiler Se non l'avete visto Andate a vedervelo Perché comunque Sti cazzi E io ne devo parlare Perdonatemi Non puoi concludermi Un'epopea Di anni Ok Decine di anni Con una stretta Di mano di merda Cioè questi qua Che sono amici Per la vita Per via della figa Perché questa è La morale di merda Di questo film Perché questa è Veramente la morale Di merda di questo film Si salutano E non si vedono Mai più Allora è un concetto Di crescita Che io lo posso Anche capire All'inizio no Perché qui è proprio Il concetto di crescere Ed è un altro film Per noi Che tanto che per i bambini È proprio un altro film Per noi Due amici però Comunque possono avere Comunque rimanere in contatto Essere comunque amici Nonostante uno dei due Si sposa O si trova Una ragazza Che cazzo di senso ha Che questi si salutano E non si vedono mai più Perché quello deve stare Con 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 la pecoraria Con la pecorara E l'altro deve andare Con Con la mazzone A casa della bambina Ma che cazzo vuol dire Ma perché E tra l'altro Mi ha fatto incazzare Anche la scena Io stavo male dentro Mi faceva male lo stomaco Ho sentito una frattura Nel cuore Questi si stringono la mano E si girano E si non si cagano più Ma sono 50 anni Che siete una cosa sola Ma stai scherzando Siete culo e camicia Com'è possibile Non vi abbracciate nemmeno Ma una minchia d'abbraccio Non potevano digitalmente Due mani Due stronzi Comparivano due mani così Prendevano due pupazzi Li facevano abbracciare Facevano sbattere uno contro l'altro Mi andava bene Ma una minchia d'abbraccio Strappa lacrime Volevo uno cazzo Strappami una lacrima Per favore Un abbraccio Tra i due personaggi Me lo puoi dare? No Grazie Grazie per tutto Oh Io voglio piangere Non voglio incazzarmi Il 4 è stata una stronzata Per ciucciare soldi Basta Il 4 è stata una stronzata Per lasciare soldi Che poi tra l'altro Possa essere anche una cosa vera Che quindi dopo che uno Si fa una famiglia Effettivamente tende a mollare Le amicizie Per carità Ci può anche stare Nessuno dice questo Ci sono migliaia di casi Va benissimo Però mi fa incazzare Il modo in cui è stato fatto È proprio fastidioso Il modo in cui è stato fatto Non c'è rispetto Neanche per la storia passata Perché cosa? Perché devi fare due speech in più Hai messo un personaggio inutile Come il cucchiaino Che È un pupazzo costruito Con l'immondizia Da parte della bambina Che diventa Il suo pupazzo preferito Tra l'altro Woody Che figa Cosa fa? Perché la bambina Vuole il suo giocattolo Cazzo lui Diventa ossessionato Da questo giocattolo E diventa lui Lo stinky pit di turno È lui quello che cerca Di tenerlo con sé E di dire No tu non sei spazzatura Tu sei un giocattolo Devi restare qua con la forza Non me ne frega un cazzo Devi dare gioia a questa bambina Ma se Ma sarà I diritti della spazzatura Dove li mettiamo? Ma se vuole essere reciclato Ma recicliamolo Ma che cazzo Me ne frega Woody lì Sì Il 4 Woody è un villain Assoluto Infatti Buzz dice Ma che cazzo fai? Buzz è tutto Buzz Serve a ribilanciare Perché Woody è quello esagerato Che ha manie di controllo Che però è il collante di tutti Buzz È quello che risolve sempre Dice No Sei un po' esagerando Non so se E nel quarto capitolo Secondo me sono esplosi Vabbè Bestiace Questa era la tier list Di Toy Story Fate i bravi Fate i buoni Noi ci vediamo lunedì Alle 21.30 Chiudo la settimana Preparatevi per cose incredibili Perché settimana prossima Abbiamo un ospite speciale Adesso vediamo di organizzare La live Me l'avete chiesto Quindi L'ho contattato Forse Il signor Nervi Si unirà a noi Per una giocata O per quattro chiacchiere Adesso vedremo Anche il nostro Andrade 1988 Ritornerà Pammel Party Sicuro Ritornerà Se arriviamo alla maratona Facciamo anche la maratona Insomma Settimana prossima C'è l'ira di Dio E tra l'altro Persino Ritorno Di Mortuari Haas Il culo mortuario ritorna In casa nostra Bestiace vi voglio bene Grazie per ogni cosa Fate i bravi Fate i buoni Digelite sempre tutto E mi raccomando Mi raccomando Pensate a CopTV Pensatemi Buonanotte Bestiace Grazie per ogni cosa Ciao